Roma 2013, il fine settimana, si apre con un film italiano, è Come il vento di Marco Simon Puccioni, interpreta il film protagonista Valeria Golina, che interpreta il ruolo di Armida Miserere, una storia che i lodigiani conoscono molto bene. A cavallino degli anni 90, Armida Miserere fu la direttrice del carcere di Lodi, era la compagna di Vittorio Mormile che fu ucciso tra Capiano e Meleniano nel 90. Il film racconta la sua storia, racconta questa storia tragica, come il vento è come il titolo è preso dalle parole lasciate nella lettera di addio della Miserere che si tolse la vita poi nel 2003. Un film drammatico molto bello, un raro film italiano da andare assolutamente a vedere che uscirà in sala il 28 novembre.